Vincere da un quattro d'alto. Partendo quattro, seconda chiamata. Solini, Consoli. Consoli. Bravo. Categoria, ragazzi, se l'invio fa 5 kg. Si presentino Marbone, Colò e Giao Inglue, tappeto numero 3. Marbone, Colò e Giao Inglue si presentino al tappeto numero 3. Si preparano per la categoria testi serie G, 76 chilogrammi. Simeone, Cristian, Quattrini, Brenno. Si preparano, Simeone, Cristian, Quattrini, Brenno. Tappeto numero 3. Cervo Lucco, del grosso Ernest, serie B, 76 chili, tappeto numero 2. Simeone, Beneghezzi, Adriano, Foti, Martello, serie B, 93 chili, tappeto numero 2. Juniors, serie A, 66 chili, terzo classificato, Mennita, Nicolò. Terzo classificato, Cacioni, Nicola. Secondo classificato, Buzzi, Matteo. Primo classificato, possidente Guido. Primo classificato, Buzzi, Matteo. Primo classificato, Buzzi, Matteo. Primo classificato, Buzzi, Matteo. L'unico ci sarà 70 kg, secondo classificato Ponzini Andrea, primo classificato tra i strani Federico. L'unico ci sarà 70 kg, secondo classificato tra i strani Federico. L'unico ci sarà 70 kg, secondo classificato tra i strani Federico. L'unico ci sarà 70 kg, secondo classificato tra i strani Federico. L'unico ci sarà 77 kg, primo classificato tra i strani Federico. Secondo classificato tra i strani Federico. Si presenti, primo giallura. Si presenti, c'è l'unico ci sarà 70 kg. C'è l'unico ci sarà 70 kg. C'è l'unico ci sarà 70 kg.